Minacce al Vescovo di Nocera Inferiore con un finto manifesto funebre. La folle accusa Monsignor Giuseppe Giudice quella di aver ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali. Nel manifesto era scritto un grave lutto ha colpito il nostro agro ma unitamente vinceremo. Frasi deliranti che scaturiscono dalla decisione presa dall'Assemblea del Clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi. I motivi della decisione sono legati alla prudenza per il covid e alla tragedia della guerra in Ucraina. Nel manifesto si legge ancora a darne la triste notizia le bande musicali, fuochisti, gli ambulanti, giustrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al covid e ora continuano a lavorare per una scelta disonesta e ingiusta. La situazione esplosa venerdì scorso sul web subito dopo le parole del Vescovo era addirittura nata una petizione popolare sulla piattaforma web change.org. Ma cosa aveva detto il presule? La situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità e rispetto di attenzione e comportamenti per limitare la diffusione del virus, sono le parole di giudice. Le nostre comunità sono inoltre scosse per il conflitto bellico in Ucraina che richiede preghiera per la pace, sobrietà e carità nei confronti dei fratelli che hanno perso tutto sotto i bombardamenti. Il tema riguarda la nota festa della Madonna delle Galline, un rito simbolico religioso molto sentito degli abitanti di Pagani. La festa prende il via con l'apertura del santuario il venerdì santo e prosegue fino a notte inoltrata dei lunedì Nalbis, canti popolari e eventi nel centro storico della cittadina. La manifestazione sospesa negli ultimi due anni a causa del covid era attesissima, da qui la delusione dei fedeli manifestata però con forme inaccettabili. L'augurio che la vicenda si ricomponga per il bene di tutti in maniera serena. Grazie a tutti.